Hai mai pensato di parlare così? Hai mai pensato di parlare così? Ma ti sembra? In modo robotico, impersonale, asettico, no? Allora, se ti è chiaro nel parlare che non è interessante per chi ti ascolta se tu parli così, e non è manco divertente per te che parli così, se ti è chiaro nel parlare, dovrebbe esserti altrettanto chiaro nel danzare. È uguale! Non posso pensare di seguire la pulsazione tutto tempo, il tempo forte, il beat, chiamalo come vuoi, e mi muovo tutto tempo uguale. Non è interessante! È come parlare così? Sì, io sono andato a ballare ieri sera, ma non ha senso! Allora, impara da solo, fai l'autodidatta, studia con chi vuoi, fai quello che vuoi. Però, se ancora non l'hai fatto, è il caso di approfondire l'interpretazione musicale, la musicalità, chiamala come vuoi, se hai piacere di studiare con me interpretazione musicale, o musicalità, chiamala come vuoi, io ti propongo un corso di musicalità online. Funziona! Fidati! Si balla sulla musica, ci sono esercizi. Se ti interessa, guarda in descrizione o chiedimi direttamente e ti do tutte le informazioni. Si chiama Interpretango. Interpretazione Tango. Fammi sapere. Se vuoi, sai dove trovarmi. Ciao! Ciao!